Buongiorno, eccoci qui. Qui è Hilary di Aquafortis Astrology e vediamo cosa sta per succedere, astrologicamente parlando, per la seconda settimana di giugno 2019. Lunedì 10 di giugno 2019 alle 17.27 ore locali, il super chiacchierone del sole in gemelli litiga con il sapientone Giove il Sagittario. Immaginate che il sole in gemelli dice a Giove il Sagittario, potresti contesemente non provare a insegnarci il grande significato della vita ogni volta che succede qualcosa? Ci fai piacere? E Giove risponde, e tu perché non smetti di guardare le cose come se fossero solo dell'informazione? La vita è fatta molto di più di quei gigabyte che hai in memoria in testa e tu lo sai. Poi entriamo nella parte più delicata della settimana, dove Marte comincia a fare notizie. Il 3 di giugno 2019, alle 0046 ore locali, Marte in Cancro incontra il nodo nord della Luna. Abbiamo detto più volte che Marte in Cancro non è un Marte felice, perché nella casa del Cancro ancora incontra il suo lato più debole. Marte nasce per fare le cose senza troppe elucubrazioni mentali o emozionali. Nella casa del Cancro Marte si trova a girare intorno ad emozioni e sentimenti che vengono dettati dalla Luna. E sappiamo che la Luna sta sempre in continuo cambiamento, cambiamento di umore. E questo succhiavia l'energia di Marte. Insomma, la casa del Cancro è a Marte, come la criptonite è per Superman. E questa cosa fa incavolare sempre di più Marte perché non riesce a fare le cose come vorrebbe farle. Ora aggiungete il nodo nord della Luna, che amplifica il tutto. E questa criptonite diventa ancora più grande. Non solo quello, ma poi Marte, il 14 giugno 2019, alle ore 8 e 11, viene un po' sviato da Nettuno un pesci. È uno sviamento fatto in modo omichevole da parte di Nettuno, ma visto la condizione attuale di Marte, non credo che le cose nebbiose che offre Nettuno fanno un gran favore a Marte in questo momento. Specialmente quando, sempre il 14 giugno alle 18.50, Marte in Cancro si trova a faccia a faccia con Saturno un capricorno. Qui non sarò diplomatica per nulla. Questo è uno scontro assai duro e Marte viene sconfitto da Saturno. Abbiamo un Marte debole e frustrato, che deve far fronte a un Saturno in capricorno in tutta la sua gloria. Da qualche parte nella nostra vita, sbatteremo la testa letteralmente o metaforicamente parlando, a un muro enorme con una grande scritta no sopra. Immaginate Marte, un po' lunatico, che dice a Saturno «Io voglio quello! Mi fa sentire bene e al sicuro!» E Saturno lo guarda dall'alto in basso e gli risponde «No, non puoi!» E Marte, in preda alle sue emozioni, comincia ad agire come un ragazzino in piena pubertà con un comportamento aggressivo passivo. Per cui, per favore, fate attenzione a quel giorno e ai giorni che portano a quel culmine di quel giorno. Ci troveremo letteralmente forzati a dover prendere un'azione su qualcosa che nella nostra vita è arrivata a un punto morto. Comunque rimane sempre una nostra scelta di come reagiamo alla situazione. Provate a non partire sempre di testa immediatamente, di reazione viscerale. Poi, il 16 di giugno 2019, alle ore 16, è tempo di Mercurio, un cancro di litigale con Saturno in Capricorno. Probabilmente stesso punto morto, stessa situazione, stesso muro, ma ora il conflitto passa da voler menare a uno scampio repentino di parole, piene di emozioni. Quello che vedremo è che l'energia si sposta da essere viscerale a diventare più di testa, anche se sempre comandata dalle emozioni in continuo cambiamento. E quello che era prima una frustrazione che ci faceva spaccare la testa sul muro, ora diventa spargere di graffiti tutto il muro per esprimere il nostro conflitto. Poi, poco dopo, alle 17 e 21, Nettuno in Pesci avrà un specie di quid pro quo con Giove in Sagittario. La casa dei Pesci e la casa del Sagittario sono tutte e due dimore di Giove, per cui su tutte e due le sfonde Giove fa da padrone. Tradotto, per quanto Nettuno vuol creare una sensazione estremamente sottile di illusione, Giove riuscirà a trarre del bene a lungo andare. Però ricordatevi che questa è la seconda parte di una storia cominciata il 13 di gennaio 2019. Provate un po' a ricordarvi cosa stava succedendo in quel periodo. Quella stessa storia sta cominciando un secondo capitolo. E considerando che Giove è retrogrado, cioè che sta andando indietro nello Zodiaco, ci saranno dei cambiamenti a quel piano iniziale, che abbiamo cominciato il 13 di gennaio. Tenete in mente che questa storia ha un terzo capitolo, che verrà scritto il 21 di settembre 2019, quando Giove e Nettuno si incontrano di nuovo. Per cui c'è ampio tempo per questa storia di cambiarsi e di modificarsi. Se avete bisogno di consigli o come navigare queste energie, sono disponibili per delle consulenze private. E prima che andate via, ricordatevi di dirmi cosa ne pensate, pollice in su, condividete e sottoscrivete il mio canale. Ciao, a presto, buona fortuna!